Tra pochi istanti avrà inizio l'incontro di Pallavano, Romagna Angle contro Edo Tavernelle. Primo incontro di andata, seconda fase, play-out, girone B. Gli sponsor Eurovo e GF Meccaniche sono 10 di presentare le formazioni in campo. Per la Edo Tavernelle con il numero 12 Ciani, con il numero 71 Vanni, con il numero 9 Petrangeli, con il numero 10 Buzzi, con il numero 66 Provedi, con il numero 19 Ciglio, con il numero 33 Tannuri, con il numero 24 Pesci, con il numero 92 Barbarico, con il numero 23 Piera Tonda, con il numero 3 Borgiani, con il numero 95 Nascucci, con il numero 7 Berlini, con il numero 15 Pellati, allenatore Lali, con il numero 6 Fabrizio Folli, con il numero 19 Mattia Ridocchi, con il numero 22 Giacomo Ciani, con il numero 12 Fabrizio Folli, con il numero 9 Ernesto Andalò, con il numero 11 Michele Bosi, con il numero 17 Carlo Gollini, con il numero 7 Alex Laposta, con il numero 30 Lorenzo Bartelli, con il numero 19 Fabrizio Folli, con il numero 42 Abbi, con il numero 8 Tadio Chiarini, con il numero 10 Simone Paletti, con il numero 24 Emil Bocci, con il numero 15 Aleccianto Rotau, allegatore Domenico Tassenani, che abitano l'incontro, il signor Rosenza, in generale, il schiavone di Siracusa, comissario di campo, il signor Cioni di Bologna, a tutti un buon divertimento. Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! 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 Ne hai finiti già lui! Sì, sì! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,, , , , , , , ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Grazie. 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 grazie 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 classico stiamo tre いき grazie 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 a tutti. 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 Sì, sì, sì. Fischi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.